amici cari amiche care bentornate bentornati ai nuovi alle nuove benvenuti e benvenute prima del video sul sole desidero ricordarvi di usare il prezioso indice alfabetico trovate il link in tutte le descrizioni dei video dove sovente in primo piano potete aggiornarvi sulle ultime informazioni oltre alle più di 2600 voci per le vostre ricerche di approfondimento approfittatene commento come parli veloce nell'introduzione ho provato a ripetere così veloce ma è difficilissimo sei troppo forte no ho semplicemente usato un programma per velocizzare la voce non cadere nel trannello di credere che sia tutto vero a seguito del video credere agli schermi e dubitare della realtà dopo alcuni commenti dove qualcuno ha scritto che la lampadina non implode rispetto alla cisterna aspiro anche a smentire quello che ci insegnano a scuola fin dalle elementari dove in seguito poi nessuno va più a fare alcuna indagine ci hanno insegnato che la lampadina all'interno non ha aria ma questo non significa che è sotto vuoto il principio di funzionamento di una lampadina è semplice il filo percorso dalla corrente elettrica si arroventa e diventa incandescente emanando luce dovendo resistere ad alte temperature per molto tempo si è scelto di utilizzare il filo di tungsteno che resiste pensate fino a 3400 gradi centigradi in presenza di aria qualsiasi materiale brucia quindi per evitare il consumo rapido del filo l'interno della lampadina viene completamente privato di aria vale a dire sotto vuotato e riempito attenzione e riempito di gas inerti argon azoto eccetera per evitare l'ossidazione del filamento questa notizia è riassunto in poche righe ma ci sono voluti quasi 100 anni di studi ed esperienze dall'inizio alla fine del 1800 per arrivare a questo purtroppo ancora molti di noi sono convinti che la lampadina è sotto vuoto no sole wow ecco il sole filmato senza alcun filtro artificiale se non le nuvole la cosa interessante è che in questo video sono state filmate si vedono chiaramente le macchie solari osservate che nitidezza e invece siamo abituati a vedere il sole creato con le immagini computerizzate della nasa osservate che meraviglie in queste immaginazioni in cgi e qui attraverso le nuvole si vede solo la luce bianca grazie appunto all'immagine reale quello che segue è una cosa che può fare chiunque filtro treppiede et voilà con un treppiede motorizzato con tanto di montatura che insegue il sole sarebbe il top le immagini che vediamo sono state scattate in un lasso di tempo di cinque ore di rotazione il 18 dicembre 2015 adesso le rivediamo mettendo il disco del sole al centro c'è qualcosa di diverso da quello che ci insegnano a scuola a scuola ci insegnano quello che detta la nasa ovvero che le macchie solari ruotano insieme al sole mentre nella realtà girano come un disco nulla a che fare con la rotazione di una sfera e queste sono altre immagini scattate il giorno successivo il 19 dicembre sempre del 2015 fate le vostre personali ricerche e non fidatevi di nessuno soprattutto dell'indottrinamento che si divulgano con la scuola obbligatoria